Buongiorno, buongiorno, scusate, io sono una vostra cliente, ma mi è successo un problema, io più di un mesezzo fa, tosti con voi, sono stata manco dieci giorni con la Wind, poi richiamai a voi per diventare vostra cliente, parlai con una cliente loro della Wind e mi disse, signora noi siamo dieci giorni di prova, se lei non si trova, io dissi no, perché loro non mi dissero che io potevo cambiare anche il modem, comunque per non si dà l'allungo io mi sono tocca prima dei dieci giorni dalla Wind e mi dissero che se io pagavo, facevo la ricevuta con il pagamento di ritorno, pagavo solo 5 euro, non dovevo pagare poi quello che mi avevano fatto loro, mi hanno mandato la bolletta di 88 euro, io ho chiamato e ho detto ma chi ve ne deve pagare, la vostra collega mi ha detto che io se pagavo solo facevo la ricevuta, io ho fatto l'allullamento della Wind e la telecom lo sa perché me l'hanno fatto anche loro, allora richiesto, mo ci l'ha da pagare questa bozza e collega, mi hanno detto se non la pagano, se la mandiamo con la mora, ma io non ho capito, mo come devo fare, mi hanno chiuso i telefoni e mi faccio, io l'ho fatta la ricevuta prima dei dieci giorni, se non ci sta nessuna ricevuta, devi pagare 88 euro, io ti pagassi 88 euro, io 7 giorni sono stata con loro e non l'ho neanche usata la Wind perché non avevo giustamente la cosa con loro, la quella, come si chiama, le cotless, la, quindi mo come devo fare, perché una sua collega mi dice diciamo a me, tu fai come ti hanno detto loro, fai l'annullamento della, come si chiama la, l'annullo che uno dice quando uno si complazzo, si diciamo così, e io ho fatto l'annullamento, come l'annullamento? Non, non senso signora Anche una sua collega mi dice che me l'aveva fatto l'annullamento con la Wind, ma mi hanno mandato 88 euro da pagare, ma questi sono fatti Signora Io mi ho chiamato allora, quello mi ha staccato il telefono, perché io ho detto se non vi pago lì, perché se noi ve le mandiamo con l'amore, ma chi le deve pagare molti soldi? Signora, signora, signora mi ascolto Non so, ma come devo fare, ditemi come mi ho chiamato a voi, perché sicuramente anche la sua collega, io ma non mi ricordo il nome con chi parlai, Valentina, Alessia, non mi ricordo Signora, ascoltatemi, voi che numero avete fatto? Il 159 No, signora, avete fatto 118 No, adesso sì, vi ho chiamato qua a voi, per caso che sono cliente a voi No, siete cliente all'emergenza sanitaria sul territorio, signora, noi mandiamo le autobulanze Eh Eh Ah, madonna mia, mi devi scusare Madonna, sto parlando da me, se ora me lo dicevate prima Vabbè, vi siete fatti chieditati, ah, non va niente, con noi Senti, come dite, signora Eh, ma, questo è da giocare i numeri, eh, però, stamattina Eh, invece di se andrò 100 stelle, se resta virgumgurito, si gomma di sempre di schaura Senti, buccia Buccia Senti Buccia 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 Grazie.